È importante sostenere la ricerca, questa fase storica lo dimostra ancora di più e la ricerca sul cancro in questi anni ha fatto importanti passi avanti. Per questo noi chiediamo ai nostri sostenitori, alle persone della comunità piemontese di continuare a sostenerci. In istituto operano oltre 300 ricercatori impegnati in 39 laboratori, sono persone che provengono da tutto il mondo e che studiano come combattere il cancro e come vince questa battaglia. Quindi chiediamo a tutti voi di essere con noi e di sostenerci in questa missione. Grazie.